Cosa proviamo quando sentiamo parlare di intelligenza artificiale e che cosa ci chiediamo quando pensiamo ad un robot? Come funziona? Oppure come si comporta? Ma soprattutto, quale sarà il nostro futuro? Ecco, queste sono state le mie domande. Credo che siano le domande di molti. Vedete, prima di occuparmi di tecnologia e di intelligenza artificiale, io pensavo che queste fossero qualcosa di molto lontano da me. Per me l'uomo è sempre stato al centro, per il lavoro anche che io svolgo. Poi un giorno, qualche anno fa, incontro una donna, la donna 4.0. E da lì nascono interessantissimi progetti sulla tecnologia e nasce anche la community, la community donne 4.0. Bene, cambia il mio punto di vista, cambia la mia prospettiva. Mi rendo conto improvvisamente che io sono circondata da tecnologia e da intelligenza artificiale e non lo sapevo. Beh, penso a quando utilizzavo il chatbot di Facebook, piuttosto che i vocali, il vocale Siri, l'assistente virtuale, oppure le app presenti all'interno del mio smartphone. Sì, pronte lì a darmi delle risposte ad alcune mie domande. Beh, mi rendo conto che ero circondata circondata da intelligenza artificiale e non lo sapevo. Ne rimango stupita, meravigliata e devo dire anche affascinata. Ero circondata da intelligenza artificiale. Mi rendo conto che l'intelligenza artificiale mi dava moltissimi vantaggi perché mi consentiva di avere le risposte in pochissimo tempo e con pochissimo sforzo. Beh, dobbiamo dire che l'intelligenza artificiale rappresenta l'emblema della quarta rivoluzione industriale e dà grandissimi vantaggi nella vita personale, nella vita professionale e soprattutto nelle nostre aziende. Sì, perché vedete, l'intelligenza artificiale ci consente di ridurre molte delle nostre attività, soprattutto quelle di tipo ripetitivo, ci consente di automatizzare i processi di lavoro, ci consente di essere più efficienti e ci consente anche di migliorare il rapporto con i clienti. La pervasività, diciamo, dell'intelligenza artificiale ormai credo che sia un processo inarrestabile, credo che questo sia una cosa condivisibile da tutti. La questione non è tanto convivere con i sistemi di intelligenza artificiale. La questione è capire come possiamo sfruttarli al meglio per la nostra capacità decisionale, ma soprattutto è importante capire come possiamo mantenere viva la nostra capacità critica. Sì, perché vedete, l'algoritmo non è neutrale. Perché l'algoritmo può essere, può avere dei dati errati, può essere portatore di bias e di pregiudizi che ci possono indurre in comportamenti sbagliati. Beh, allora, non possiamo né demonizzare, né demonizzare l'intelligenza artificiale. Tutto quello che possiamo dire è che l'intelligenza artificiale sarà anche un nostro possibile alleato, anche per il futuro. La mia curiosità si è spinta nel cercare di comprendere quali potevano essere le frontiere nuove dell'intelligenza artificiale, quelle che potevano impattare maggiormente sulle persone e sulle organizzazioni. Scopro l'intelligenza artificiale emotiva, ovvero quel ramo dell'AI che attraverso una tecnologia molto avanzata, dotata di sensori di alta tecnologia, consentono di leggere le espressioni facciali, consentono di poter leggere la postura, consente di poter leggere il tono della voce, quindi programmati per fornire delle risposte, delle risposte adeguate anche agli stati emotivi delle persone. Beh, allora mi chiedo, e se il pensiero logico-razionale può essere riprodotto dalla AI e se addirittura si può arrivare a leggere anche quelle che sono le emozioni di una persona, quali sono allora le abilità dell'uomo che sono funzionali all'uomo per gestire la complessità del nostro futuro che non possono essere riprodotte da questa tecnologia? Beh, io ne vedo due, l'intuizione e l'immaginazione. Sì, l'intuizione e l'immaginazione sono due abilità che tutti noi abbiamo, abilità dell'uomo, che ci permettono di gestire la complessità, ci permettono di gestire l'imprevedibilità dei nostri tempi. Einstein ci diceva che l'intuizione è il dono sacro e la razionalità è il suo servo fedele. Ma vediamo che cos'è l'intuizione. Allora, l'intuizione, come dicevo, appunto è una capacità che permette di fare delle analogie, delle similitudini tra ciò che conosciamo e ciò che non conosciamo. È quella capacità che noi mettiamo in campo fin da quando siamo piccoli per apprendere quello che ci succede intorno a noi. È una scorciatoia cognitiva che ci consente di poter risolvere problemi, prendere delle decisioni in situazioni di crisi, di incertezza. In effetti, se ci pensate bene, quante volte ci capita, di fronte a problemi piccoli o grandi che siano, di prendere delle decisioni in base all'intuito e non in base alla ragione. A conferma di questo riporto quello che è la ricerca di due fondatori dell'economia comportamentale che negli anni 2000 hanno svolto una ricerca, un'indagine su come le persone prendevano le decisioni in situazioni, in contesti di estrema incertezza. Ebbene, quello che ne venne fuori sostanzialmente era che le persone utilizzavano in quei contesti quelle che vengono definite le abilità euristiche, ovvero scorciatoie mentali acquisite nel corso evolutivo del tempo funzionali alla sopravvivenza. In effetti, se ci pensiamo, l'eccessivo calcolo o l'eccessiva richiesta di informazioni in situazioni in cui abbiamo necessità di trovare subito una soluzione non sono funzionali. Vi faccio un esempio. A me capita molto frequentemente, quando ho un problema, di cercare, magari nell'arco della giornata, tante informazioni affinché io possa trovare la soluzione. E per quanto la mia ricerca sia spasmodica, spesso mi capita di non arrivare mai a niente. E allora, magari sfinita, mi corico, vado a letto, ed ecco che nel dormiveglia ho il lampo, ho la soluzione. Ecco, quella è l'intuizione. Andiamo a vedere l'altra abilità, che è l'immaginazione. L'immaginazione è un'altra abilità che l'uomo ha e che sempre lo stesso Einstein ci dice che è più importante della conoscenza stessa. Sì, vedete, l'immaginazione è uno strumento di conoscenza. È uno strumento di conoscenza che ci consente, attraverso la produzione di immagini mentali che possiamo produrre, trasformare, sviluppare, ci consente di accedere a nuove conoscenze, a nuovi mondi. Vi voglio raccontare l'immaginazione sulla base di due specifiche funzioni. Quella puramente immaginativa, che è quella appunto di, che è quella che ci consente sostanzialmente di andare oltre i nostri confini che conosciamo, quindi i confini della conoscenza, e quella, l'altra funzione, che è quella visualizzativa. La funzione visualizzativa ci consente di recepire delle informazioni ed acquisire delle conoscenze di cose che non sono ancora avvenute. Ebbene sì, vi faccio un esempio. Fate conto di immaginarvi, di visualizzare un bel piatto di lasagna. Ecco, quando facciamo questa operazione, le neuroscienze ci dicono che nel nostro cervello si vanno ad attivare delle aree che si attiverebbero nel caso in cui io effettivamente mangiassi quella lasagna. Quindi, sempre le neuroscienze ci dicono che, grazie ai neuroni e specchio, che quando noi immaginiamo una situazione con dovizia di particolari, si vanno a creare come dei circuiti neurali e quindi la mia mente si va in qualche modo ad allenare. Tutto questo mi consentirà quindi di acquisire conoscenze nuove che mi saranno utili per affrontare poi quella situazione. E anche qua vi faccio un esempio. Fate conto di dover fare, di parlare in pubblico, su un palco, così come sto facendo io a questo momento. E fate conto che questa cosa possa produrre a voi un disagio. Ebbene, se voi adottate la tecnica della visualizzazione, riuscirete a vedere, a vedervi su quel palco. Riuscirete a sentire l'emozione che proverete quel giorno su quel palco. Riuscirete a vedere le persone. Riuscirete a vedere i volti delle persone. Ecco, in questo modo, la nostra mente riuscirà a creare questa sorta di allenamento e ci permetterà di individuare poi che cosa devo fare per poter affrontare al meglio quella situazione. Ebbene, queste sono due abilità, due capacità che l'uomo ha a disposizione per produrre nuove conoscenze. Ecco, ma queste due abilità hanno necessità di essere coltivate ed allenate. Beh, allora, vediamo come. L'intuizione. L'intuizione richiede un allenamento, una necessità di essere coltivata, perché da una parte richiede, diciamo, un'apertura al nuovo, quindi uno smantellamento di quelli che sono i nostri schemi cognitivi che ci fanno interpretare le cose soltanto da un determinato punto di vista. Ci richiede la curiosità, ma soprattutto ci richiede una cosa, di acquisire sempre più conoscenze. Sì, perché, guardate bene, ci possiamo affidare all'intuito solo nel caso in cui si diventa veramente bravi nella nostra materia. Allora sì, che questa abilità, che qualcuno definisce abilità superiore, ci potrà essere veramente d'aiuto per affrontare situazioni di crisi. Andiamo all'immaginazione. L'immaginazione ha necessità anche questa di essere coltivata e di essere sviluppata, soprattutto in un momento storico nella quale domina il pensiero logico-razionale. Ma noi sappiamo quanto nella sua funzione immaginativa l'immaginazione è assolutamente importante perché è foriera di inventiva e di innovazione. E noi sappiamo quanto la I ha necessità di questo. E poi dall'altra, nella sua funzione visualizzativa, ci consente di accedere a quella potenza, a quelle energie necessarie all'uomo per affrontare situazioni, situazioni nuove e imprevedibili. Quindi, se io dovessi farvi la domanda chi guiderà il futuro? Ma sarà sempre l'uomo, sarà sempre e solo l'uomo. Perché, vedete, l'uomo non potrà delegare alla intelligenza artificiale queste due funzioni. Perché noi avremo sempre più bisogno, nel futuro, di avere persone che abbiano sempre più abilità, capacità, di generare nuove visioni, nuove idee. Perché di questo noi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno anche per gestire l'imprevedibilità del domani. Grazie. 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 Grazie.